nano acquario tropicale ciao a tutti ragazzi bentornati a questo nuovo video bentornati sul canale oggi nostra piccola realizzazione ve ne parlo subito prima cosa importante che voglio dirvi iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per non perdere tutti i prossimi nuovi video come vedete ne stiamo sfornando peggio delle brioche allora questo è una creazione di oggi all'istante così abbiamo fatto in maniera instantanea allora innanzitutto ci tengo a precisare quando a volte viene commissionato un acquario di questo genere questo è un micro acquario nano acquario qualsivoglia a volte ci chiedete ma come fai a far maturare così velocemente un acquario e allora non ci sono trucchi innanzitutto perché tanto la biochimica cioè la natura è quella che ai suoi tempi e non c'è nulla da fare l'unica cosa che possiamo fare con la natura ragazzi è provare a impararci qualcosa della natura su tutti gli aspetti anche sui lati umani e animali noi qui che cosa facciamo prendiamo del materiale maturo dalle nostre vasche un'acqua che non è consentitemi termine non è giusto dire matura perché la maggior parte dei batteri non stanno tanto in colonna d'acqua questo tipo di batteri ma stanno nei sistemi di filtraggio nella superficie porose nella ghiaia stanno ovunque quasi tranne che nella colonna d'acqua quindi quando mi dite si recupero l'acqua così è già attivo non è proprio sempre così è quindi un pochino d'acqua si l'abbiamo recuperata ma soprattutto per non dare shock termici osmotici eccetera eccetera andate poi a vedervi qualche nostro video dove ne parliamo ai batteri ok quindi è più che altro per questo non è tanto per conservare colonie batteriche all'interno dell'acqua stessa qualcosa ci sarà ma è poca cosa ovviamente non è che fai questo è l'acquario tac e maturo subito mettiamo dei prodotti assolutamente che sono gli stessi che consigliamo a voi e poi successivamente abbiamo dei tempi comunque di maturazione perché non si può alla natura non si può veramente accelerare difficile è quasi impossibile possiamo dargli i ceppi batterici corretti quello sì diciamo consentitemi di dire che cerchiamo siamo sempre alla ricerca di nuovi ceppi batterici tramite i marchi con cui lavoriamo quindi i marchi cioè le case che costruiscono diciamo questi enzimi a volte questi batteri queste colonie sono sempre alla ricerca di batteri performanti quindi cerchiamo in tutti i modi comunque sia la regola è sempre la stessa non cambia nulla bisogna far maturare cioè o meglio cambia qualcosina cambia che matura magari molto prima dirvi quanto non lo so ragazzi non prova cioè se volete provare provate l'importante che non mettete all'interno degli animali quindi non andiamo a sperimentare sui animali tanto tempo adesso un po che non lo dico comunque i danni l'ho già fatti io per tutti quanti voi messi insieme quindi non c'è bisogno che li facciate anche voi oggi o vi ho risparmiato la presenza della mia faccia quindi mi sono messo al buio così che questa fotocamera ci saranno degli upgrade anche sul materiale vedrete che stiamo spingendo molto dunque di conseguenza che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto un hard escape quindi in sostanza un sasso è un acquario micro quindi ovviamente non è che ci permetteva chissà cosa gli acquari molto molto piccoli sono molto più difficili e soprattutto anche solo già entrare con le manine abbiamo messo un sasso un tronco o due o tre adesso non ricordo perché non ho eseguito io questo lavoro forse uno dei primi che non eseguo ma la mia ragazza quindi la mia socia a lavoro la segretaria quando chiamate che maria in sostanza quella che sentita il telefono è lei anche lei si diletta gli piace molto la bene artistica eccetera ognuno di noi ce l'ha non siamo noi non siamo né dei pittori né degli artisti anzi cerchiamo di occuparci maggiormente di biochimica e di non far tanti danni in giro proprio perché l'abbiamo già fatti noi e quindi questa l'acquarietta abbiamo messo qualche pianta in giro per un po qua un po la un po così non dico buttate lì ovviamente perché non è che quando ci commissionata un acquario e mettiamo tutta la cura e tutto il nostro buon gusto che può esserci ovviamente l'acquario poi le piante quindi tutto l'acquario insieme dovrà crescere a livello biologico a livello di fito depurazione di espansione delle piante e via dicendo abbia messo una dracena emersa del della ligno fila cripto corine e altre che di qua non vedo già sono mezzo cercato io ma altre che di quando riesco a stabilire fosse qualche bacopa e qualcosa del genere niente sono acquari molto 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 belli sono bellissimi unica pecca come vi dico sempre più e piccolo l'acquario è più difficile questo e questo promette bene un acquario estremamente estremamente piccolo non ho idea dei litri possiamo stare su un 15 20 litri come fauna all'interno che cosa consigliamo noi consigliamo dei gamberi normalmente se riusciamo stare sui venti o qualcosa di più la legge non lo permetterebbe in alcune zone mi sembra che il limite sia 30 però diciamo che anche il beta ne ho visti tanti vivere moltissimo e anche bene anche proprio come stato di salute e comportamentale vivono anche su una ventina di litri e basta non si riesce a mettere molto altro si può mettere magari qualche lumachina caridine però bisogna fare attenzione al beta volte se metti le caridine non metti il beta e via dicendo niente più che altro era un video ragazzi per farvi vedere così per tenervi sempre aggiornati siccome ormai sapete più cose vuoi che il fisco per me nella mia vita del mio lavoro della nostra passione ormai siamo una community e quindi niente ogni volta che ho tempo sapete che mi butto giù a capofitto a fare video quindi questo era niente rappresentativo abbiamo messo un riscaldatore no piccolino anche se ormai le temperature sono abbastanza diciamo consone alla vita tropicale in acquario però fate attenzione anche su questo punto di vista perché gli sbalzi termici anche soprattutto volte una volta tanti sbalzi termici ce ne accorgevamo dalla vendita dei medicinali ovviamente adesso non sono più consentiti come come vendita quindi non ce ne accorgiamo più molto perché non ci chiedete aiuto in quanto non possiamo aiutarvi tramite medicinali però la malattia sbalzo termico era molto frequente in primavera e autunno più che l'inverno e l'estate è proprio perché in questo periodo ci sono degli sbalzi termici abnormi quindi non staccate la spina del riscaldatore piuttosto cercate di abbassare leggermente la regolazione se è troppo alta a volte capita e poi come filtro abbiamo messo un filtrino cascata microscopico anch'esso dei cannolicchi maturi all'interno cannolicchi diciamo nostri si sono nostri sono estremamente più porosi e basta poi una luce a led molto molto performante e basta quindi più o meno siamo lì come fondo abbiamo utilizzato un quarzo ceramizzato circa una decina di chili grosso modo forse otto giù di lì abbiamo fatto una spugnetta in prefiltraggio ve la faccio vedere da vicino una parola eccola qua quella spugnetta lì ormai ci conoscete abbiamo la mania del prefiltraggio cioè cercare di preservare sistemi di filtraggio dalla manutenzione pulizia eccetera eccetera cerchiamo di fermare qualcosa a monte in questo modo qui il sistema meccanico di filtraggio cioè la parte meccanica quindi dove andiamo a trattenere lo sporco è sicuramente è sicuramente lì che si andrà a depositare lo sporco quindi lasceremo libera la parte interna e via dicendo filtro a cascata è molto semplice comunque anche da pulire all'interno non è mai un grosso grosso problema dunque mi rimetto in un'angolazione più umana ok ragazzi niente io appunto come dicevo prima ci teniamo moltissimo a farvi vedere anche questo lavoretto che abbiamo fatto non tutti riesco a recensirli a volte sono lavori to che fuggi a volte sei a casa delle persone giustamente non ti viene neanche da fare il video perché se un lavoro da tre ore dovessi montare dei set delle luci fotocamera ci metteressi un anno e poi anche un pochino per privacy bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like condividetelo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per richieste commerciali come vi dico sempre nei commenti troverete nei commenti e nella descrizione sicuramente troverete tutti gli indirizzi del caso io e il mio microbo vi salutiamo e buon acquario a tutti ciao